Ragazzi tunisiani, Angelo parte bene come al suo solito Allora, oggi in questo video faremo la casa degli orrori per Halloween Io mi devo aggiustare qua il microfono perché chiaramente partiamo sempre male Eh infatti Leris non ha voluto fare la prova audio No vabbè la prova audio si sente quasi, cioè spero si senta bene, non so cosa dire Allora qua ho preparato questi materiali Che praticamente servono appunto per fare questa casa degli orrori Abbiamo preparato Abbiamo preparato Ah ecco perché Gabri stai gridando Mannaggia Perché poi quando io dico parlate, loro parlano tipo parliamo E poi dopo nel video urlano, no? Chiaramente E tu ce lo dici E ok allora urlate anche quando dico di parlare, no? Mannaggia a voi Perché se no poi dopo io cosa capisco, vabbè Esatto È la cetia Logico Stai fermo, stai rovinando il paesaggio Allora Che stupido Allora Quindi il resto del materiale di Doniziani ce l'ha Chiara Quindi Menomale perché era un po' poco questo Sì 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 Guarda Chiaramente La pietra nera I mattoni di pietra nera Dai Angelo cosa stai facendo Vai Allora Cos'è? Allora Do l'incarico a Gabri Scava No 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 non a Gabri A Chiara Scava a Chiara Una stanza 8x8 Ok Ok Direi che è abbastanza 8x8 Perché praticamente Non da qui Non da qui Un po' più in fondo Dai lati pure Sì dai Eh sto iniziando Perché ho fatto i lati Ah ma quindi la facciamo dentro la montagna Eh esatto Io pensavo che faceva tipo una casetta Tipo No 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 Ah Massimo facciamo un'entrata magari più sofisticata Gabri Sai cosa vuol dire? Va bene È lontano Eh Allora È un'entrata segreta Anche anche ci sta No però forse la casa degli errori È esatto Allora Aspettate un attimo che mi stava cadendo l'iPhone Eh Che pazzo Oddio No c'è tipo Allora Cade l'iPhone e muore il padrone C'è il problema Esatto Duniziani abbiamo avuto un piccolo problema tecnico Eh esatto Allora Perfetto Adesso per fortuna c'è C'è tutta questa cosa Adesso iniziamo un po' a scavare qua sotto E io direi che il pavimento ragazzi lo facciamo di Perché io al posto della Si è buggato tutto Si è buggato tutto Che è successo? Io al posto della Blackstone Ah No vabbè mi è riattorso nell'inventario Ma cosa è sta stregoneria? Chiara come giustamente Eh no Chiara come giustamente ha sbagliato Ha fatto un nove Per otto Non un otto Ma come hai fatto nove per otto Un due tre Quattro Cinque Un due tre Quattro Hai fatto nove per otto Chiara Come ho fatto nove per otto Uno due tre Hai sbagliato No vabbè non ce la posso fare Non ce la posso fare Esatto No no scherzo scherzo Ce la puoi fare Allora Però adesso Mi raccomando Ma perché poi Angelo Adesso si sente di nuovo basso Si esatto Dai Io boh Io non so cosa dire Cioè per Angelo T.S. è rotto No io Non è T.S. fidati Ognuno di noi secondo me ha una maledizione Ok Allora Chiara ha la maledizione del fatto che non può gridare la notte Perché se no le staccano a internet Angelo ha la maledizione Che non può perennemente gridare Ma io ho la stessa maledizione di Chiara No Gabriele la maledizione è che praticamente nei video si sente fortissimo E non si capisce niente Si sente come uno che urla tipo Come Eh sì Purtroppo Come Purtroppo Ai me purtroppo capita Tutto è rotto Gabri No no Angelo parla più forte Più vicino Al massimo più vicino al microfono Se no si sente un disturbo come al solito Un sottofondo Un sottofondo Ok bravo bravo Allora Oh bravi guardate come state scavacchiando A qualcuno ti si è rotto il piccone Aha stupido Ti si è rotto il piccone in diamante Stupido È vero Grazie No tieni va Allora Ti si è rotto il piccone in diamante Sì Allora un piccone in diamante Che schifo Allora E ora che faccio Rompete anche questa parte qua sopra Mi raccomando eh Perché è molto Vabbè sì per fare il test Ah sì se no Costruisco anche io ovvio Cioè Sì 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 costruisci anche tu chiaramente Allora io qua stavo cercando un attimo Di capire bene Quello che I materiali che ci sono da usare Tipo qua al centro Io direi di utilizzare questa Particolare Questo particolare legno Sì vero Collegato Magari tipo Inutile Cosa stai dicendo Angelo? Non sa piccone sono inutile Eh infatti un piccone no? Denis Ce l'hai del vetro rosso Tipo magari Mettere Arancione Esatto arancione Magari che è meglio Tipo mettere Legno sotto il vetro Il legno sotto il vetro O il magma block sotto il legno Sì ci sta Ho usato il vetro Eh Ce la faccio Allora Gabri ti do a te l'incarico di fare questa cosa Visto che hai le idee chiare Va bene Tieni Gabri ti do Il vetro Allora Noi adesso dobbiamo cercare di Di capire bene Quello dove posizionare Le ragnatele Questa è una cosa molto importante E le zucche Anche le zuccone È il simbolo di Halloween Perché io non vedo niente È vero È vero Doniziani Scrivetevi se a voi piace Halloween Perché questo A me Halloween è una delle mie feste preferite Sì è bellissima Eh esatto Non si può festeggiare in Italia No no Non si può Non si può e basta Ma come non si può Perché In teoria non si può Perché non è una festa religiosa Ah vabbè Vabbè non è una festa Allora ma è comunque Una celebrazione molto bella In America si festeggia Ed è bellissimo È vero È vero Anche perché poi loro addobbano Tutto quanto È una roba veramente bellissima Tipo tutto quanto No bellissima Tipo come fanno a Natale Eh esatto Solo noi praticamente Angelo Purtroppo È schifo È schifo Assolutamente sì Però come l'altro Tu non ti senti Sei contento di questo No allora sta stanza È mai impossibile No non è sta stanza Perché prima ti sentivi Prima ti sentivi Adesso non ti senti di nuovo È tutto rotto Ma è rotto È solo lui che fa così però Ma io non sento perché Lo tengo al massimo Ah ecco Eh ma se lo tengo al massimo Poi ti stono le orecchie Poi ti stono le orecchie Quando cambio stanza Giustamente Eh esatto Vero Ma no ma prima ti sentivo bene Anche in questa stanza È questo il problema Il problema situazionoso Doniziani Qua ci sono problemi tecnici Non indifferenti purtroppo Sì esatto Perché Allora prima di tutto Io ho mal di gola Non si sa perché No mamma mia E parlo troppo No non è corona Che parlo troppo No cosa dici Angelo A parte Madonna mia Non puoi dirlo su YouTube Angelo Mannaggia a te Perché Poi dopo YouTube dice È un enorme per la monetizzazione Non ti diamo più i money E io non posso più A guadagnare Comunque queste zuccheri Le ho messe proprio a cavolo di cane Sono stupida Per non dire qualcos'altro L'abbiamo notato Sì 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 Scusa Ah beh io sto facendo il pavimento Non è una cosa molto importante Però mi piace molto il lavoro di squadra Che stiamo facendo Bravi ragazzi Ma il mio blocco li metto anche di qua Giusto Sì E comunque mi ha interrotto Mi ha interrotto Mentre stavo dicendo una cosa molto importante Per la squadra Veramente vergognati di questa situazione Scusa Dennis Non volevo Esatto E non dire quella cosa che stavi per dire Perché io so che stavi per dire una cosa brutta Contro di me Mi stai rimanendo a quel paese No Su Youtube non la puoi dire Dalle altre parti Ma non è vero Allora Dunque donisiani No perché sappiamo tutti che Gabri mamma mia Cosa Quando non è su Youtube Mamma mia È tutto un marpione Un zuzzo Cosa Vuole a calappiare lui Cosa Cosa Dunisianette Gabri è single Cosa Dunisianette Sì 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 Gabri è single È tutto quanto Ma anche per i donisiani Ma cosa Anche Un po' per tutti Un po' per tutti Non so cosa pensare Veramente Non pensare che fai prima Un miglioramento al pavimento Cosa vuoi fare Chiara Sì 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 Comunque fai tutto Anche perché Io non ho più i materiali Quindi Io manco Mi dispiace Ce li ha Chiara i materiali Non ti devi proprio preoccupare Angelo Però stavo dicendo Stai zitto Stavo dicendo Mi piace molto il lavoro di squadra Che stiamo facendo Perché Vi ricordo ragazzi Siamo uniti Esatto Siamo una squadra bellissima Infatti se io adesso vado a dare Un bacetto alla zucca È come se lo stessi dando a voi Eh Ok Ha fatto Ha molto senso questa cosa che ho detto Assolutamente Avete del vetro arancione Che l'ho finito Il vetro arancione Te lo tiri da fuori il sedere Amici Continuate voi là dentro Noi dobbiamo andare un attimo A fare una cosa Fra noi due Allora Gabri vieni Allora Gli altri stiano zitti Perché se no li vanno Quelle risottine già si sentivano Chiaramente Poveri Allora In casa mia Ho un Envil E questa Envil La utilizzeremo Io non ho Esatto Questa Mi dispiace tanto Questa Envil La utilizzeremo Per Fare il Cosola Come che si chiama Per fare Il nome del golem Che metteremo nella casa Degli orrori Dunisiani E il golem Si chiamerà Consiglio dalla regia Dimmi Giubertone No 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 Giubertone Forse è meglio Perché Giuberto Voi sapete che è una persona Veramente orribile Esatto Se vi ricordate Io ci sto ancora pensando Giubertone Scagazzone Ma Ok Scagazzone Perfetto Ci sta E questo è veramente Horror come nome ragazzi Esatto Se ve lo trovate davanti Voglio vedere io Se non vi spaventate Porca miseria Altro Kate Altro Kate Bravo Gabri Bravo E mi sta anche piacendo Che stai parlando Allora Andiamo intanto insieme A vedere le altre case Dei signori qua Perché chiaramente Voi sapete Dunisiani Che noi abbiamo Un vanilla Veramente proficuo E bello qua In questo server Sto procedendo bene Esatto E vedo anche Che molti Ci giocano Purtroppo qua Non c'è ancora niente Nella casa di Angelo e Chiara Ma sotto Non c'è ancora niente No nel senso Sopra Ma sotto c'è tanto Come vedete qua È molto bello Molto bella È il builder È chiaramente Angelo Tutti i suoi Cosa? Cosa? Chiara? Anche Chiara Anche Chiara Anche Chiara Ti ho fatto un complimento Ho detto che sei brava Non so Allora fai cagare Vai a quel paese Angelo Perché allora Non ti dico più niente Fai schifo Ok Ma qua c'è C'è un'altra stanza Non l'avevo Allora c'è qualcuno Che fa eco comunque Io ve lo dico No Ah questa stanza L'ho vista adesso Ah Hanno un sacco di averi Vabbè non rubiamo niente È una fornace Esatto Allora Poi andiamo anche a far vedere la tua casa velocemente Però allora chi Allora mutatevi immediatamente gli altri Ora Tutti quanti Sia Angelo che Chiara Perché si sta sentendo un casino della Madonna Ok Perfetto No perché i dunisiani si stava sentendo Un'aspetto di Nel video veramente orribile Secondo me quella era Chiara No povera Ma vabbè Questa invece è la casa di Gabri Che ancora Però penso non sia finita Gabri Vero Eh cioè Ma perché non mi piace tanto Qua sopra non mi piace tanto Sotto Invece sotto è molto È molto più carina sotto Guardate qua dunisiani Molto bella Sta ancora prendendo piede Chiaramente Verranno molto meglio Adesso però andiamo A Iniziare Quel signore là Quel goblin Va bene Insomma Non è un golem Golem La stessa roba Gabri Hai finta che sia un goblin Va bene Ok perfetto Guardateli là come Sono laboriosi Quei due signori Ma Guarda Guardali Guardali Cosa stanno facendo Stiamo lì Ah Stanno mettendo Delle cose Eh Chissà dove se ne mettono Però Dove le tirano Allora Adesso potete Smutarvi Cioè veramente Allora Ciao Ciao Io sono scioccata Sei sciocco basita Top Perfetto Ok Questa 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 stanza degli orrori È venuta molto bene Dunisiani Devo dire Adesso Stai no Fermo Adesso lo ammazzo Dunisiani Guardate qua Guardate qua Adesso iniziamo Gian Giubè Adesso Adesso vedrete come si chiama Si chiama Cancelliamo la chat Perché è una cosa orribile Eh Si chiama Giubertone Scagazzone Perché lui Mamma mia Che bel nome È veramente horror Questo qua Allora tu però Signore Giubertone Dovrai proteggere Questa cosa degli errori Perché chiaramente Qua ci sono un sacco Di errori orrori Qua dentro E tu sei Errori orrori Dovrai Dovrai completare Non dormo più la notte Cioè veramente Hai visto No 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 Ma lui è bravo In realtà Guardalo Guardalo con quegli occhi Ma poi una cosa No Dennis Ma non rimane aperto Qui no Ah boh Non lo so Diciamo Vediamo i progetti No ma secondo me Dovrebbe restare aperto Eh però non scappa Eh ma se ne scappa Ah giusto Vabbè mettiamo tipo Delle staccionate Eh è vero Sì due staccionate Oppure due cancelli Sì due cancelli Due cancelli meglio Quindi Chi è che lo fa Fallo tu Angelo Che tu sei già L'esperto Di queste cose Veramente Sì esatto Perfette Anche se secondo me È morto Vero Beh lo faccio io No no C'è ancora C'è ancora Vabbè ok Ho già fatto No no ma penso Sorry Sorry Ah mamma mia Mamma mia che sciocchezza Che sciocchezza E poi tu Vabbè Cosa Ma io cosa sto sentendo Io non ho più Angelo tutte le volte Che ti muti Ti si sente Un Una sorta di rumore Veramente orribile Che noterei nel video Quindi non lo fare più Dove mi poti Vabbè Cosa Ma è stupido Esatto Mettiamola Smettiamola di dire cagate Prima di tutto Allora niente È bello Abbiamo finito No tu scagazzone Stai qui dentro Perché non puoi uscire Non puoi uscire Devi rimanere qua Esatto A proteggere Vedi Gabri come ci parla Esatto Cosa gli diresti A Giubertone Scagazzone Là come si chiama Che deve rimanere qui A proteggere Esatto Questo posto Ok però puoi essere Un po' più vivo Gabri Eh magari Bravo Un po' più felice Un po' più di vita Aiuto Bravo bravo Anche se sta laggando tutto Aiuto Esatto Aiuto Chiara Mi dispiace tanto Mi dispiace Questa è purtroppo La trista La trista vita Eh dici Dici Di la tua cagata Vai Di 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 Questa è Non si sa Vabbè Ok Ma sta laggando tutto È stato bello Dunisiani fare questo video Silenzio Dobbiamo concludere questo video Che è abbastanza fallimentare A quanto vedo Perché sta andando Tutto quanto male Non è possibile Esatto Quindi state fermi Per l'amor del cielo E se no Sembrate tipo State facendo la breakdance Non so I tiktok anzi Per meglio dire Se no Sembro una specie di Di vecchietto Di boomer assoluto Vabbè Dunisiani Angela cosa vuol dire Stai fermo C'è pure la pioggia Ora per colpa tua Ma poi Lui ha messo Lui ha messo L'acqua E' iniziato a piovere Eh hai visto È veramente una cosa Terribile Allora anche nella pioggia Esatto Eh allora Quindi Dunisiani Se vi piacciono Questi tipi di video Mi raccomando Mi raccomando Boh fate qualcosa Mettete Mettete Un emoji Nei commenti Anche se Lo staggia qualcuno Ma vabbè chi se ne frega Ormai No no scherzo Questa parte Deve un emoji di Halloween Eh esatto Magari Tipo una zucca Ci starebbe tanto Una zucca Devo dire Oppure una ragnatela Secondo me c'è anche Vabbè Un pistrello Un pistrello 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 E quindi Dunisiani Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao